Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi parliamo di CIMAB. Qualche anno fa ho fatto un video in cui parlavo di CIMAB, di come si faceva l'installazione, ho fatto un tutorial che ha avuto un discreto successo, oltre le 50.000 visualizzazioni, e questa volta voglio riproporvi però una feature molto interessante che vi permetterà di fare, che cosa? Parlare il vostro computer. Prima di farvi vedere qualsiasi cosa voglio ringraziare Francesco Di Fiore, che è stato veramente molto gentile ad illustrarmi come configurare il tutto. Quello di cui vi sto parlando è questo. Oppure Oppure Ma prima di continuare, e non ve lo dico io, Quindi ragazzi, come facciamo a far diventare il nostro volante, il nostro CIMAB in realtà, come uno spotter che ci dà una mano, e qual è l'utilità? Beh, l'utilità è ad esempio chi indossa un casco di realtà virtuale, se il simulatore non presenta HUD, oppure per mantenere la concentrazione direttamente alla guida, e non andare a impazzire a guardare magari un display piccolino, e vedere in che posizione è, che ne so, l'ABS, piuttosto che il traction control. E ci aggiungerei, perché è comunque una figata. Andiamo subito sul mio desktop. Allora ragazzi, bisogna prima di tutto aprire, eseguire CIMAB, e quindi andrete su Controls ed Events, e sarete di fronte a questo menu, che è il Manage Events Triggers. Che cos'è un Triggers? Un attivare, innescare qualcosa quando si avvera una condizione. Quindi nel nostro caso, vi faccio un esempio, cosa chiediamo di attivare a CIMAB quando avviene una condizione? Allora, prendiamo uno qui di questi Triggers standard, tipo il Low Fuel Up Alert. Quindi qui praticamente il Trigger è, quando arriviamo alla riserva praticamente, chiediamo a CIMAB di fare che cosa? Serial Dash Plugin, cioè mandami sulla dashboard, e fammi vedere, Display Screen per 3 secondi, un'allerta, Low Fuel Alert. Ora, quel Low Fuel Alert, siamo noi che gli dobbiamo dire che cos'è. Ok, può essere un suono, un'immagine, può essere un blinking, quindi lampeggiamento di un testo, attenzione, benzina scarsa, quello che volete. Come si fa quindi per mappare questo Trigger, e dire a CIMAB cosa fare? Basta andare su New Mapping, che è qui. A questo punto vi si apre un Mapping Picker, quindi un menu, che è suddiviso in due parti. Il primo sulla sinistra è il Source, cioè quindi la sorgente, di qual è l'evento che deve scaturire, nel caso in cui la condizione si avvera, quindi diventa vero che, ne so, l'ABS Level Change vuol dire che l'ABS sta cambiando, e la destinazione, cioè che cosa devo fare, il Target, sulla destra. Quindi, ABS Level Change, che cosa devo fare? Ok, ad esempio vado a prendermi, che ne so, un Play Beep, tipo Play Beep 7, quindi cosa vuol dire? Ogni volta che farò un cambio, lo posso far sentire, c'è questo Beep che si attiva, e a questo punto io so, con questo Beep, che sto cambiando il livello dell'ABS. Questo è un esempio stupido, perché ovviamente si può personalizzare, si può mettere, ad esempio, la voce ABS cambiato. Questo si può fare per tante cose, e come faccio io a trovare il Trigger che mi interessa? C'è una bella funzione, si chiama Type 2 Filter. Ad esempio, se io voglio mettere questo Beep, con la bandiera blu, faccio blu, guardate un po', flag blu, quindi, se io gli assegno Play Beep 07, ogni volta che avrò la bandiera blu, mi suonerà. Ovviamente possiamo fare qualcosa di molto più carino, ragazzi, ad esempio, potremmo fare, che ne so, invece di dire bandiera, invece di sentire Beep, possiamo fare bandiera blu, proprio farlo suonare, che è questo l'obiettivo. Però, volevo anche passare dalla configurazione basica, per farvi capire che è veramente semplicissimo, anche utilizzando quelli che sono i sound predefiniti di Simab. Ovviamente, per personalizzarlo, bisogna entrare allo specifico, e adesso lo vediamo. Quindi, già la prima parte ce l'avete, potete già configurare i vostri triggers, se volete, però, per chi volesse personalizzare ancora di più, andiamo avanti. Allora, detto questo, e capito come funziona, che cosa devo fare? Prima di tutto, identificare quello che mi interessa, cioè, le bandiere, benissimo, l'ABS, benissimo, il traction control, benissimo. Quindi, come faccio ad identificarli? Sempre su New Mapping, magari metto il TC, che è il traction control. Ora, qui, ci sono già, però, vedete qui, c'è il TC level changed, quindi, TC level, quindi è la prima parte che mi interessa, e changed, è che cosa? È la variabile, cioè, che cosa è che attiva nel trigger? Il cambiamento, cioè, qual è l'azione che fa sì che la condizione si avvera? Il cambiamento del traction control, del livello del traction control. Quindi questo me lo devo ricordare. La seconda parte non la vediamo subito. Andiamo a lavorare proprio sul traction control. Come faccio per lavorare su questo? Allora, devo andare su un file particolare, quindi faccio proprietà, apri percorso file di Cmab, e vado nella cartella che si chiama ncalc script. Qui, vedete, due file, voi ne avrete uno solo. Questo non è nient'altro che la mia copia di backup. Perché? Perché ogni volta che andate ad aggiornare Cmab, questa ve la cancella. Quindi, fate un backup ogni volta che fate i vostri triggers, così questo non viene toccato, e poi basterà cambiare il nome e rifare sempre una copia di backup. Quindi, entrate in seamless.ini, e come vedete qua ci sono i miei trigger che ho già fatto. Però, abbiamo detto che dobbiamo lavorare su che cosa? Sul livello del traction control, ma nello specifico non mi interessa sapere che il livello si aumenta. Io voglio sapere proprio in che posizione è, perché sto guidando, magari so come mi è successo alla Pittle Cup, che Alessandro Cappa dicesse, ragazzi, nella curva a gomito, aumentate a 8 il traction control con questa macchina, e poi riabbassatelo a 3 ad esempio. Ok, quindi per avere questa conferma di ogni volta, metto e tolgo quando si fa tante volte, ok, perché durante una lotta, una cosa eccetera, un aiuto sonoro può veramente fare la differenza. Quindi, come faccio? Bisogna, e ovviamente questa è una parte che sto dicendo che si può veramente personalizzare anche nel gioco, perché basta impostare un pulsante che metta il traction control a 3, e in più Simab riconoscerà che questo traction control a 3 dirà traction control a 3, ok? Quindi questa è una personalizzazione ancora più spinta, che secondo me è fighissima. Allora, abbiamo detto, abbiamo questi triggers. Allora, prima cosa, noi dobbiamo fare il traction control a 3, che è qui, lo cancelliamo, ok, ora io potrei copiare e incollare, perché basta fare il primo, e uno si fa la sequenza, però abbiamo, tra parentesi quadro aperte, export event, export event, che questo rappresenta per Simab, un triggers personalizzato, dopodiché gli dobbiamo dare un nome, name, uguale, tra, apici, mettiamo, tc level 3, e questo lo decidiamo noi, ce lo ritroveremo sul mapping, e a questo punto dobbiamo indicargli il trigger, quindi, trigger, uguale, tra parentesi quadre, perché è lì che si mettono i comandi, allora, bisogna identificare, che cosa, cioè, qual è la parte, dell'hardware, oppure, la parte del, simulatore, ci deve dire, dare questo impulso, ok, di darmi questo dato, che quando lo riconosce, quando Simab lo riconosce, mi dà, appunto, l'esecuzione di, eh, quello che dicevo, o un file audio, un'immagine, un video, quello che è, allora, per quanto riguarda, tutto quello che è, diciamo, pulsanti, sta roba qua, sono identificati, generalmente, con, data core, proprio scritto come, qua, plugin, e mettiamo un punto, perché quello identifica, la parte, diciamo, hardware, e nello specifico, se non so dove andare a prendere, questa parte qui, è molto semplice, ragazzi, basta andare su, Simab, e andare su, available properties, quindi, ragazzi, basta scrivere qui, che ne so, fraction control, e vi da praticamente, tutto quello che è, il traction control, e in più vi dice, anche quello che è supportato, o non supportato, c'è anche ad esempio, vediamo il pit limiter, pit limiter, eccolo qua, pit limiter on, quindi se uno vuole impostare qui, sarà, come dicevo, game data, pit limiter on, si chiude, uguale a cosa? True, se è vero, o false, e quindi vi darà il play dell'audio, che avremmo fatto, game, che avremmo fatto, pit limiter on, oppure pit limiter off, il consiglio che vi do, è di fare comunque degli audio, abbastanza corti, perché se no sentite una cosa, pit limiter on, potete mettere pit off, pit on, ad esempio, data core plugin ragazzi, non è nient'altro che, chi dà l'impulso, ok, ad attivare appunto, l'azione, cioè il trigger, quindi data core plugin, poi, chi è che mi restituisce, questo valore, che sto praticamente, quindi io sto mandando, con data core plugin, chi è che mi restituisce il valore, game data, perché viene da lì, game data, cioè tutti i valori ragazzi, vengono dal gioco, no, il simulatore che mi restituisce, e a questo punto metto un punto, e abbiamo già, il data core plugin, chi è che dà l'impulso, il ritorno di game data, e a questo punto, che cosa voglio, che, eh, faccia avverare la condizione, abbiamo detto, tc level, quindi faccio tc level, ok, e chiudo, ok, chiudo la parentesi quadra, e a questo punto, a cosa deve essere uguale, a tre, quello che abbiamo detto prima, quindi io c'ho praticamente, la stessa cosa che avevo scritto qua, ovviamente, l'ho fatto manualmente, solo per farvi capire, com'è che è la sequenza, fatto ciò, salvo, e ho personalizzato, il mio, traction control livello 3, cosa mi rimane da fare, rimangono da fare due cose, primo, la registrazione dell'audio, ok, quindi per registrare l'audio, avete un'infinità di modi, potete registrare con un registratore vocale, la vostra voce, traction control 3, e quindi, fatto, oppure se volete fare qualcosa di molto professionale, grazie sempre a Francesco, mi ha suggerito, Microsoft Climchamp, trovate sul Microsoft Store, ed è gratuito, non c'è bisogno della versione premium, basta andare su, crea un nuovo video, andare su, registra e crea, e, guardate, c'è la sintesi vocale ragazzi, potete scegliere la voce che volete, ce ne sono una infinità, io prendo la prima, e metto, traction, control 3, a questo punto, il suggerimento che vi do è di mettere un pelino di velocità, perché se no, è lenta, e, traction control 3, traction control 3, con l'accento americano, e a questo punto che bisogna fare? Bisogna solo esportarlo, ve lo esporterà in 720p come video, e qui non è un problema, perché per la conversione di video MP4 in MP3, ci sono un sacco di servizi online, come ad esempio, convertitore MP4 to MP3, prendiamo il primo, gratis, scelgo il mio file, faccio converti, attendo, e me lo scarico, oppure, posso fare qualcosa di molto più rapido, ad esempio, io ho scaricato audacity, che in realtà utilizzo sempre, lo posso importare direttamente, occhio che, vi può dare questo errore, vi dice, ah, io non posso, non posso elaborare questo file, perché, allora fate ok, e andate sempre su google, ffmpeg, audacity, e fate installing, bisogna solo seguire le istruzioni, andate su questo link che vi da, fate il download, in base alla vostra versione di window, fate doppio clic su quello che vi ha scaricato, accetto, next install, finish, quindi tornate su audacity, quindi adesso andiamoci a prendere il file, che ci ha fatto in MP4, traction control 3, quindi a questo punto possiamo fare file, esporta, come MP3, e dove andiamo a salvarlo ragazzi, qui è molto molto importante, andate su programmi, Cmab, d'accordo, quindi cercate la, la cartella, sounds, e lo salvate qui, ovviamente, scegliete un nome, che potete riconoscere facilmente, quindi io, metto tcs3, faccio salva, mi dirà di sovrascriverlo, perché l'ho già fatto, e a questo punto, che bisogna fare ragazzi, bisogna tornare su Cmab, per andare ad assegnare, il trigger, che abbiamo creato, personalizzato, ed assegnargli, che cosa, ovviamente il sound, traction control 3, quindi andiamo sempre su, control ed events, quindi events, new mapping, andiamo a cercare tc, e ci cerchiamo, e andiamo a cercare, che cosa, l'external script, tc level 3, che abbiamo creato, e a questo punto, vi ritroverete, sulla destra nel target, che cosa, il play, traccio control 3, se ho fatto tutto bene, quando faccio trigger action now, per provare, avrò, traction control 3, esatto, faccio ok, ovviamente io, lo tolgo ragazzi, perché, l'ho già fatto, e quindi, questa era la parte, diciamo, per un po' personalizzare, vi assicuro, che ci sono, tantissime personalizzazioni, possibili, vi ho fatto vedere, solo l'esempio, in quello che è, lo standard, cioè quello che offre, ovviamente, cimab, c'è anche da precisare ragazzi, che anche con i trigger, che offre cimab, si possono cambiare, solo gli audio, piuttosto che mettere, un beep ad esempio, quindi, non siete obbligati, a fare un trigger, personalizzato, per forza, quindi ragazzi, spero vivamente, che questo video, vi sia piaciuto, e, non ve lo dico io, ma, bene ragazzi, il video è arrivato a conclusione, grazie per averci seguito, ricordatevi di lasciare un like, commentate, e soprattutto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ciao, alla prossima, grazie a tutti,